Rocambolesco in seguimento lungo corso Italia a Ragusa da parte della guardia di finanza nei confronti di un corriere della droga si aggirerebbe sui 100 kg la sostanza stupefacente sequestrata intanto le fiamme gialle sarebbero già sulle tracce dell'uomo dall'esame autoptico si è dedotto che la ragusana morte in Brasile Pamela Canzonieri sia stata strangolata c'è chi avrebbe sentito la 39enne urlare nel tentativo di essere salvata da chi l'ha strappata alla vita le indagini continuano l'approvazione del bando sulla raccolta differenziata suscita delle perplessità tra i banchi dell'opposizione la risvisitazione con la riduzione dei costi a danno dei lavoratori non piace ai consiglieri del PD che sollevano il caso per la maggioranza è tutto ok sono stati piantumati numerosi alberi questa mattina da parte di alcuni studenti ragusani su iniziativa dell'ASP 7 è avvenuta la piantumazione all'ingresso di medicina nucleare del nuovo ospedale Giovanni Paolo II buonasera telespettatori di mtg e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo dunque c'è una notizia di cronaca eh di che è avvenuta appunto nel primo pomeriggio di oggi a ragusa ci sono bocche cucite sulle indagini che riguardano un inseguimento da parte delle fiamme gialle in borghese alle 15 e 30 di oggi lungo corso Italia fino ai pressi di piazza a San Giovanni un uomo una macchina un'alfa Giulietta Bianca alla cui guida vi era un uomo eh che è riuscita a scappare è stata eh è stata inseguita all'uomo appunto eh vistosi eh inseguito dalle fiamme gialle è riuscita a scappare a piedi all'interno del mezzo la guardia di finanza avrebbe trovato circa cento chilogrammi eh di ascici intanto le fiamme gialle eh sarebbero già sulle tracce eh dell'uomo eh che sarebbe appunto stato eh già identificato eh fondamentali sono state le immagini delle telecamere di video sorveglianza degli esercizi commerciali appunto nei pressi eh della zona tutti i dettagli in questo servizio anche se ricordiamo le eh indagini l'operazione è ancora in corso massimo riserve bocche cucite da parte degli inquirenti ma cerchiamo un po' di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di oggi Oltre cento chilogrammi di droga sarebbero stati sequestrati dalla guardia di finanza del comando provinciale di Ragusa scene da film quelle che si sono registrate alle quindici e trenta di oggi in corso Italia quando le fiamme gialle a bordo di un'auto in borghese hanno inseguito un'alfa Giulietta Bianca. I finanzieri pare fossero già all'inseguimento da diverso tempo dell'auto quando il conducente di fatto avrebbe capito di essere stato inseguito e avrebbe allo stesso tempo repentinamente fatto un'inversione di marcia per evitare l'inseguimento finendo contro le auto parcheggiate nei pressi di piazza San Giovanni. Per fortuna non ci sono stati feriti e comunque si sono registrati soltanto danni alle macchine in sosta. L'uomo vistosi spacciato è sceso dall'auto ed è scappato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi in aria a scopo intimidatorio e sarebbero stati ascoltati dai passanti. La guardia di finanza è sulle tracce dell'uomo. All'interno della macchina sarebbero stati trovati oltre cento chilogrammi di sostanza stupefacente adesso sequestrata così come il mezzo. Il magistrato di turno, il dottore Riccio, sta coordinando le indagini. Bocche cucite e massimo riservo da parte degli inquirenti che stanno lavorando senza sosta per chiudere il cerchio delle indagini. Fondamentale in tal senso il contributo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nei pressi della piazza e lungo Corso Italia. Dalle registrazioni infatti si potrà risalire al conducente dell'Alfa Giulietta. Non si sa al momento se l'auto è di sua proprietà o se è stata rubata e dunque poi utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente. Adesso le fiamme gialle stanno indagando anche per capire a quale mercato fosse destinata la droga e da dove provenisse. Tutte incognite che presto, grazie al lavoro certosino della guardia di finanza, avranno delle risposte. Adesso parliamo di Pamela Canzonieri, la donna ragusana di 39 anni è stata strangolata nella sua abitazione a Morro de San Paolo, uno dei paradisi turistici nell'isola di Tinaera, a sud di Salvador de Bahia. Sono questi i primi risultati dell'autopsia a fornire primi dati certi dopo giorni di buio sulle cause della morte. Anche il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralì ha deciso di aprire un fascicolo contro i gnoti. Venerdì la salma intanto di Pamela arriverà in Italia. Sentiamo Viviana Sammite. Morta per asfissia a seguito di strangolamento, asfissia da mani di compressione del collo, cominciano ad emergere nuovi dettagli sulla dinamica del delitto di Pamela Canzonieri. La ragusana di 39 anni, trovata morta la notte tra il 17 e il 18 novembre, e nella casa Morro de San Paolo, regione turistica di Bahia, nel quartiere di Mangaba. Gli esiti degli esami tossicologici saranno pronti invece tra qualche giorno. Un'indagine parallela e autonoma è stata aperta dalla procura eblea. È probabile che si venga a conoscenza di altri elementi sulla causa della morte. Secondo la polizia di Cairano, responsabile dell'indagine sul crimine, Pamela è stata sorpresa in casa e non c'erano i segni di effrazione alla porta. A questo punto si potrebbe ipotizzare che lei conoscesse il suo assassino. La polizia sta lavorando su due piste. Il delegato in carica, Argio Maria Freta Suarez, sta continuando ad ascoltare le persone legate alla vittima. Altri dettagli dell'inchiesta di indagati a Movente sono secretati. Sono stati prelevati i campioni di sangue a tutti i sospettati. Attraverso un comunicato, il Consolato italiano a Salvador ha riferito che le unità diplomatiche d'Italia in Salvador e Recife sono continuamente aggiornati sul caso e si tengono a stretto contatto con la famiglia di Pamela. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo tra gli amici che per domani sera alle 20 hanno organizzato una fiaccolata che partirà da piazza Tamanacqua Ragusa. A fare d'apripista al corteo uno striscione con la scritta «Nessuno muore sulla terra finché viva nel cuore di chi resta». Giustizia per Pamela. Il corteo si muoverà per le vie Archimede, i vele dei Platani, Mongibello, Toscana e si fermerà davanti all'abitazione della famiglia Canzonieri. Pamela è stata ricordata nella pagina Facebook Verità per Pamela come una ragazza assennata dai modi gentili ed educati rimanevano impressi i suoi modi perché ormai non sono comuni a tanti, si legge. Uno chef italiano, Michele Morselli, che vive a Porto Seguro, contattato tramite i social ha raccontato di avere conosciuto Pamela l'anno scorso a Morro mentre lui era in ferie perché era andato a mangiare nel ristorante dove lei lavorava. Da come l'ho conosciuta io, era spiegato, non mi sembrava assolutamente una ragazza che facesse uso di droghe. Era molto simpatica e con una energia bellissima, tanto che lavorava con il braccio fasciato. C'è ancora la crona che è stato arrestato rumeno per furto di energia elettrica dalla polizia di Comisi. Il ragazzo era già agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione alta tensione contro i furti dei cavi in rame. I poliziotti sono entrati in casa per un normale controllo di una persona sottoposta agli arresti domiciliari ma si sono accorti che il contatore dell'Enel era spento ma la televisione è accesa. La polizia di Comisi è nuovamente arrestato in flagranza di reato il 21 novembre scorso il rumeno Tudoran Gheorghe per furto aggravato di energia elettrica. Lo stesso era già stato arrestato nel corso dell'operazione alta tensione che ha sgominato una banda di rumeni degli del furto di rame. Tudoran era regolarmente in presenza dei familiari a casa ma durante il controllo era particolarmente nervoso e guardava costantemente verso il contatore della luce. Dal controllo è emerso che il contatore era staccato ma erano accesi due grandi televisori a led, un piccolo impianto Dolby Surround, un frigorifero, tutte le luci dei vari ambienti della casa compresa la cucina elettrica, lo scaldabagno, la lavatrice e alcune stufe elettriche. È stato chiesto al rumeno dove prevenisse l'energia elettrica e dopo un primo momento di titubanza l'uomo ha condotto gli agenti in un piccolo e angusto stanzino posto alle spalle della propria camera da letto. Dietro un armadio è indicato un vecchio contatore elettrico di colore nero modello in disuso da diversi anni ma su cui erano stati apposti dei sigilli e attaccati a due coppie di cavi elettrici. Tudoran ha preso un piccolo cacciavite da una menzola e dirigendosi verso il contatore e velocemente ha staccato la coppia di cavi pensando di porre fine all'attività della polizia e così immediatamente si sono spente tutte le luci elettrodomestici. Gli agenti invece hanno contattato il responsabile di zona dell'Enel. Da un primo accertamento il contatore è risultato inattivo dal 31 ottobre 2015 motivo per cui Tudoran aveva usufruito dell'energia elettrica in maniera fraudulenta per un totale calcolato da Enel pari a oltre 1.500 euro. Il rumeno con il vizietto del furto di energia elettrica è stato quindi di nuovo arrestato. Sono 658 emigranti tratti in salvo nella giornata di oggi nel Mediterraneo centrale in tre diverse operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma. I migranti, riferisce una nota della Guardia Costiera, si trovavano a bordo di due gommoni e un barcone. Le operazioni hanno preso parte la nave 18 della Guardia Costiera e la nave militare spagnola Navarra del dispositivo Euna Formade. Ed è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria ieri a Scoglitti un pregiudicato di 35 anni Safia Lee. L'uomo deve scontare la pena restuida di due anni di reclusione perché è giudicato colpevole di ricettazione. Reato commesso a Scoglitti in territorio Epparino nel febbraio del 2012. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Ragusa. Un'escalation di minacce, percosse, lesioni e in poche parole atti persecutori sono quelli messi in atto da un trentenne ragusano pregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che non ha accettato la separazione della compagna, giovane donna che gli aveva dato due figli e che per incompatibilità caratteriale aveva deciso di terminare la loro relazione. Non si è mai rassegnato alla fine di quell'amore. Da gennaio 2016 in più occasioni ha pedinato la donna, l'ha raggiunta a casa, l'ha ingiuriata con i più svariati modi di fare sino a picchiarla perché si rifiutava di ricominciare una relazione con lui. Il GIP Claudio Maggioni concordando con quanto richiesto dalla dottoressa Monica Monego titolare dell'indagine ha emesso nella giornata di ieri una misura di custodia cautelare in carcere che i militari della stazione di Ibl hanno immediatamente eseguito. Cambiamo argomento, le ragioni del sì al prossimo referendum sono state spiegate dal ministro della giustizia Orlando che a Catania ha partecipato ad un incontro organizzato dall'onorevole Beretta. Serial killer della vita dei nostri figli. Ne finisce così il referendum Beppe Grillo nello stesso giorno in cui da Catania il ministro della giustizia Orlando spiega le ragioni del sì e del perché questa riforma può cambiare davvero in meglio il nostro paese. La Costituzione repubblicana va attualizzata con un meccanismo che consenta di far sì che il cittadino quando vota sa che per un periodo significativamente lungo c'è un governo un Parlamento che legifera e non invece un ping pong una serie di vetti incrociati che alla fine svuotano la democrazia e quando la democrazia non funziona c'è sempre qualcuno che si incarica di decidere sulla testa di tutti. Grillo usa sempre dei mezzi toni mi sembra io credo che chi vota sì promuove un cambiamento e chi vota no mantiene un assetto istituzionale come quello che ha generato il malcontento di cui poi il Movimento 5 Stelle è un'espressione quindi forse c'è un interesse a tenere un po' le cose così perché magari si può pensare di rimpinguare il bottino elettorale. Il Ministro è intervenuto anche sulla questione strettamente connessa al suo di Castero come quella sui tribunali. La Sicilia non si trova in una situazione di particolare difficoltà tant'è che ci sono tribunali in Sicilia diciamo che la Sicilia è divisa metà metà dei tribunali stanno nella fascia altissima delle performance della giustizia a livello italiano e metà stanno nella fascia bassa. La maggioranza del comune di Modica chiude alla proposta del consigliere di minoranza Giovanni Scucci sul personale addetto alle attività integrative e al doposcuola quest'ultimo aveva chiesto pubblicamente di sedersi a un tavolo maggioranza e minoranza e mettendo da parte le appartenenze invitava a concertare una soluzione. Tutti i dettagli da Marco Scavino non si torna non si torna sui passi già fatti e si aspettano atti ufficiali da parte del tribunale e da parte della regione per decidere che linea assumere in riferimento all'avvertenza del personale addetto alle attività integrative e il doposcuola la maggioranza consigliare chiude dunque alla proposta del consigliere Giovanni Scucci Quest'ultimo primo firmatario della mozione che richiamava discutere sulle prese di posizione del sindaco Abbate nei confronti di questa categoria di lavoratori aveva chiesto alla maggioranza di sedersi insieme all'opposizione attorno ad un tavolo e di studiare insieme le linee guida per ristrutturare il servizio. Secondo Scucci era l'unico modo per uscire dalla fase di stallo che si sta vivendo a seguito della diatriba tra il sindaco Abbate e il presidente Garaffa terminata con documentazioni presentati da tutte e due all'assessorato agli enti locali La mozione approvata dalla minoranza del comune è stata ritenuta illegittima e l'atteggiamento dell'opposizione non ci è piaciuto a dichiararlo il consigliere comunale Luigi Gerratana Gli enti locali hanno risposto che deve rispondere comunque il segretario il segretario che rappresenta lo Stato ha dichiarato l'illegittimità quindi non è stato né l'amministrazione né ci mancherebbe la maggioranza I doposcolisti hanno comunque presentato ricorso ricorso legale quindi a questo punto la palla passa anche ai giudici Come maggioranza è per ripristinare il servizio delle attività integrative del doposcuola come era una volta ovviamente seguendo la legge quindi con una rimodulazione oppure sposa il punto di vista dell'assessore di Giacomo ovvero sì lo ripristiniamo però lo facciamo con l'ISEE lo facciamo soltanto per matematica italiano ed inglese tutte le altre materie sono fuori attualmente è già una questione ormai che è andata oltre avendo presentato i ricorsi in questo senso non si può sposare una tesi dell'uno o dell'altro a questo punto appunto diventa una questione che è super superiore a noi insomma che va oltre CUCES ha fatto riferimento a questa richiesta ma ribadisco che sarebbe stato più utile sin dall'inizio concertare anche con la maggioranza e anziché venire a cercare ora adesso quindi è chiusura è una chiusura da mesi senza stipendi e metalmeccanici che si occupano della manutenzione dei mezzi della nettezza urbana a Catania hanno incontrato l'assessore all'ecologia Rosario D'Agata da anni si occupano della manutenzione dei mezzi della nettezza urbana per conto della cooperativa Officine Meccaniche che ha ricevuto l'appalto dal comune di Catania da mesi però questi operai non ricevono stipendi a causa di presunti problemi economici della stessa cooperativa il loro comune ha deciso di supplire dando degli acconti come dichiarato all'assessore all'ecologia D'Agata stiamo facendo di tutto per cercare di risolvere questa situazione non dobbiamo però dimenticare che non sono dipendenti pubblici sono dipendenti di una ditta privata quindi la responsabilità massima di tutto questo l'ha la ditta privata che si è comportata nei loro confronti in maniera certamente non positiva c'è una grada appalto per una nuova ditta cosa succederà allora in quel caso loro appartenenti a una vecchia ditta rischiano il posto di lavoro no le gare le gare ne abbiamo fatti ben due e sono andate deserte entrambe contiamo di fare una nuova gara in cui naturalmente vi sarà la cosetta clausola sociale i lavoratori però non sono soddisfatti sono anzi disperati e temono per il futuro dall'11 di ottobre ha ceduto il ramo d'azienda vendendolo ovviamente e quindi lasciandoci in diciamo non sappiamo a chi perché io non faccio più capo a nessuno nel senso che l'officina meccanica non è più presente la nuova azienda che si è presentata io neanche la conosco non mi ricordo neanche il nome quindi non si è mai presentata nessuno vuole più fatturare anche gli ultimi giorni quindi l'assessorato in qualche maniera per pagare gli stipendi hanno la problematica appunto a chi aggrapparsi perché se non manca officina meccanica non hanno la fattura di officina meccanica non possono pagare quell'acconto che dice l'assessore che consideriamo che pagando la fattura di novembre stanno pagando il mese di luglio l'approvazione del bando sulla raccolta differenziata suscita delle perplessità tra i banchi dell'opposizione l'improvvisa rivisitazione con la relativa riduzione dei costi a danno dei lavoratori non piace ai consiglieri del PD che sollevano il caso per la maggioranza invece è tutto regolare la rivisitazione del bando sulla raccolta differenziata effettuata in fretta e furia secondo il capogruppo del PD al consiglio comunale di vittoria suscita delle perplessità in particolare preoccupa la minoranza la riduzione dei costi non in generale ma a danno dei lavoratori tra l'altro il bando approvato all'unanimità dei presenti lo scorso 31 ottobre trattandosi di legge speciale non poteva essere corretto e salvo di falco a sollevare il caso a cui replica il consigliere di maggioranza Salvatore Salemi di Selami Lacambi che difende l'operato del primo cittadino Moscato le trattative che erano delle trattative di natura privatistica ci tengo a precisarlo quindi una società privata la Tecra con la nuova società che ha vinto legittimamente un appalto quindi due società private che non avevano l'obbligo di interlocuire con il sindaco per quanto riguarda l'assunzione dei dipendenti che lavoravano presso la Trega quindi 109 mi pare che fossero in realtà se concluse in maniera positiva i sindacati hanno sottoscritto un accordo con entrambe le società c'è stata una diminuzione del monte lavoro ma per garantire diciamo il lavoro a tutti e questo fa capire come l'amministrazione sia stata sul pezzo abbia garantito e interloquito con entrambe le società pur non avendone l'obbligo Di certo la trattativa non è stata facile dopo numerosi incontri anche in prefettura si è giunti alla soluzione attuale in cui sono stati salvaguardati tutti i posti occupazionali tranne quelli dei sette che sono ancora subiudice ritoccando le ore di tutti i lavoratori della Tecra che sono passati alla nuova società una vicenda poco chiara secondo Di Falco che ha investito del caso anche la commissione trasparenza ci sarà una commissione trasparenza per capire questo percorso di costruzione e di applicazione del bando per la raccolta differenziata perché ha toccato solamente i dipendenti e non ha toccato le altre voci del bando noi abbiamo rilevato di primo acchitto che c'è stato un bando l'amministrazione comunale ha detto che deve essere svolto un servizio con determinati soldi con dei milioni di euro siccome siamo già abbastanza sospettosi perché hanno i dipendenti delle zone blu non ci sono più potrebbero essere a rischio anche i dipendenti delle maia nei centri anziani non vengono attenzionati insomma abbiamo l'impressione che questa amministrazione dello Stato sociale se ne stia impipando invece il centro-sinistra del Partito Democratico che è stato sempre attento ha sacrificato anche il ritardo dell'avvio della raccolta differenziata proprio a tutela dei lavoratori vogliamo vederci chiaro Il monoblocco ospedaliero Giovanni Paolo II aprirà entro il 30 giugno del 2017 stato il manager dell'Asp 7 di Ragusa Maurizio Aricò questa mattina a stilare il cronoprogramma che porterà all'apertura della struttura sanitaria Noi siamo oggi ragionevolmente certi che entro la data della fine di questo mandato in direzione che è il 30 giugno 2017 l'ospedale sarà pienamente in funzione consegnato alla cittadinanza di Ragusa L'apertura del nuovo ospedale di Ragusa avverrà entro il 30 giugno del 2017 parola del manager dell'Asp 7 Maurizio Aricò intervenuto stamani sul posto per l'iniziativa promossa con gli studenti di alcuni istituti scolastici dopo varie promesse che si sono susseguite negli anni questa volta potrebbe essere quella buona per vedere in funzione il nuovo monoblocco di Contrada Punta Razzi che ha già mosso i primi passi con l'apertura della medicina nucleare un ulteriore finanziamento di 8 milioni di euro sono stati necessari per il completamento dell'opera iniziata nel 2003 il nuovo ospedale raggrupperà i due nosocomi esistenti e secondo il manager diventerà il fiore all'occhiello di una sanità che per molti aspetti si può ritenere tra le migliori in Sicilia a ricostila anche il nuovo cronoprogramma all'inizio del nostro mandato dopo la ricognizione dell'esistente abbiamo deciso di procedere non solo al completamento dei lavori che erano rimasti in sospeso parlo delle sale operatorie parlo di numerosi reparti e delle terapie intensive della centrale di sterilizzazione ma abbiamo anche visto il tanto tempo passato fatto una revisione di alcune aree che cominciavano a dimostrare un'età ancora prima di essere entrata in funzione quindi abbiamo revisionato il progetto e quindi adeguato i lavori per alcune aree parlo delle terapie intensive cardiologiche della terapia intensiva neonatale e quindi questi sono i lavori che stanno per essere completati le sale operatorie sono finalmente state completate e gli ultimi lavori finiranno entro il 31 gennaio 2017 poi passeremo alla fase dei collaudi degli impianti delle autorizzazioni da parte dei vigili del fuoco e poi finalmente inizierà la grande avventura e l'ospedale aprirà le porte ci fermiamo adesso c'è la pubblicità tra poco è stata fortemente partecipata all'iniziativa promossa dall'ASP 7 rivolta a giovani studenti che questa mattina hanno piantumato alberi nello spazio antistante l'ingresso di medicina nucleare dell'ospedale Giovanni Paolo II di Contrada Punta Razzi a Ragusa non solo far comprendere alle nuove generazioni l'importanza delle aree verdi ma anche far conoscere la nuova struttura ospedaliera Giovanni Paolo II ancora in fase di completamento l'iniziativa di oggi promossa dall'ASP 7 di Ragusa ha coinvolto le scuole elementari Paolo Vetri Cesare Battisti e Mariele Ventre nonché l'istituto Vannantò l'obiettivo è quello di far comprendere l'importanza delle aree verdi utilizzando specie arbore autoctone Oleandri e Pini messi a disposizione dalla forestale i giovani studenti e le loro insegnanti dopo aver a turno visitato il complesso ospedaliero si sono cimentati nella piantumazione degli alberi all'interno della vasta area che si trova a ridosso dell'ingresso della medicina nucleare questa iniziativa è molto importante perché rappresenta la nascita di un nuovo essere vivente come può essere la cura di un nuovo pensiente all'interno del nuovo ospedale è stata un'iniziativa anche molto interessante per tutti i miei compagni e anche per le professoresse perché ci dà anche la dimostrazione di come si possono piantare piante o come possiamo farci anche dei lavori manuali nel nostro giardino questa iniziativa mi è piaciuta molto perché queste piante significano la nascita e la vita di questo nuovo ospedale che quindi è molto importante è stato molto bello anche educativo perché questo ospedale è molto è molto bello che può ospitare tanti pazienti che ancora sono là fuori a soffrire cosa significa piantare un albero e poi magari vederlo crescere nel tempo quando lo vedremo saremo felici di vederlo di ricordare quello che avevamo passato tutto quello che avevamo visto le emozioni che avevamo provato piantare un albero per noi è bello perché quando saremo grandi ci ricorderemo di quello che abbiamo passato piantare le piante per me è stato un simbolo della vita così ogni paziente che andrà in questo ospedale potrà vivere guardando queste piante perché sono probabilmente il simbolo della vita e adesso parliamo di alla catalla tra i volti più familiari di questo programma fortunatissimo di giuseppe castiglia ci sono sicuramente anche gianfranco comis emanuele bettino e la signora della radio eleonora giuffrida con loro abbiamo cercato di capire qual è il segreto che cosa prevede la nuova stagione del fortunato programma televisivo che tornerà ritornerà a partire da lunedì prossimo lunedì 28 novembre su radio e video mediterraneo sentiamoli dunque al microfono di Sara Don Giusto Eleonora innanzitutto voglio il tuo saluto per tutti gli amici del nostro DG guardacelo qua era da tempo che lo volevo fare amici siamo tornati siamo tornati hai capito cioè pensavamo che era un tempo lunghissimo in realtà siamo tornati pronti e carichi siamo carichissimi a palla pallettoni tra l'altro questa questa nuova stagione siamo in una location particolare perché in realtà tu tu che ci ascolterai da casa puoi passare ci puoi vedere dal vivo ci puoi toccare con mano capito perché siamo qui a Pzessesicoro e quindi siamo nel fulcro nel centro della città di Catania quindi chi passa può vedere anche i tuoi balletti per esempio questo è uno spettacolo che eviterei però in ogni caso chi ha piacere può anche ballare con noi il tamarindo ragazzi Puccio Enza e portare qualche arancino gli arancinatti sono i miei preferiti mi raccomando anche le passafrole quelle con la crema le fragoli insomma qualsiasi cosa anche il pranzo avanzato dalla domenica va bene stiamo lavorando parecchio ma non soltanto io anche i miei colleghi soprattutto Giuseppe sta sempre lì dietro a tutto quello che c'è da seguire quindi molto impegnati però sicuramente arriveranno delle bellissime soddisfazioni e soprattutto terremo compagnia i nostri carissimi ascoltatori che sono lì che ci stanno aspettando qualche chicca che ci puoi annunciare qualche novità di questa stagione invernale ci saranno tante belle rubriche e però non voglio dirti altro guarda il pubblico continua a farci sentire il proprio affetto quindi non vediamo l'ora di riabbracciarlo anche se radio televisivamente un abbraccio radio televisivamente quindi allora ricordiamo dove vi si può ascoltare dove vi si può vedere ascoltare su Radio Mediterraneo e Radio Universal che è anche una tv quindi Radio Universal TV canale 644 e 645 del digitale terrestre poi abbiamo Video Mediterraneo canale 11 e 511 perché siamo anche in HD e poi c'è Sicilia Sat che ci ha dato tante soddisfazioni canale 605 su digitale 823 su Sky dalle 18 alle 20 e 20 orario un po' diverso rispetto alla stagione estiva dalle 18 alle 20 e 20 che tutti dicono essere il drive time ma c'è anche la stirata time la cucinata time per chi è davanti alla televisione sul divano spavaranzato e quindi cercheremo di abbracciare tutti coloro che hanno voglia di stare insieme a noi e non ci sono aggiornamenti concludiamo qui questa edizione di MTG grazie come sempre per averci seguito vi auguro una buona serata arrivederci a domani grazie a tutti